più due, più due, più tre, giù adesso con l'audio, giù tutto l'audio, ascoltiamo le suoi amici, gli equimici, gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, ascoltiamo adesso le voci dei giocatori in campo e il tifo del loro pubblico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.